Ciao a tutti amici lettori, sono Francesco Lea, autore di Victor e Nitral, rispettivamente il primo e il secondo volume del ciclo della rinascita, trilogia epic fantasy che sto presentando qui a Fantexpo di Salerno. Victor è la storia di un ragazzo che viene scelto da un'antica profezia come colui che dovrà risanare le sorti del pianeta minacciato da un nemico che fa ritorno ogni cento anni. È una storia di amore e amicizia che vuole esaltare valori vecchi e nuovi, una storia che vuole esaltare virtù che la società sta sempre deturpando con lo scorrere del tempo. Spero che possiate trovare la lettura stimolante e venite a trovarmi, sono qui a Fantexpo per venerdì, sabato e domenica. Un saluto a tutti. Ciao a tutti ragazzi, sono Mariano Charletta e sono qui oggi al Fantexpo per presentare il mio romanzo The Necklace, l'esorcismo di Rose Oden. Come ben sapete io sono dedito da tempo ormai a quello che è il genere horror e The Necklace risulta essere il mio ultimo lavoro. Sono davvero felice di essere qui per presentare questo romanzo, soprattutto qui c'è lo stand di Edizioni Pacuro dove potrete trovare tantissimi libri interessanti. E nulla, vi aspetto domani dopo domani sempre qui a Salerno. Grazie infiniti, a presto, un abbraccio.